Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a parlare delle enumerazioni in Swift e andremo a vedere insieme come si dichiarano e soprattutto cosa servono. Le enumerazioni in Swift sono come un modo elegante di raggruppare delle cose molto molto simili e messe tutte insieme insomma. Immaginiamo di avere delle diverse opzioni o delle diverse scelte e vorremmo organizzarle in modo un po' più ordinato. Ecco queste sono le enumerazioni. Le enumerazioni quindi possiamo dire che sono come un elenco di queste opzioni tutte diverse, ognuna con un nome suo appropriato, diverso. Ad esempio pensiamo ad un semaforo. Con un semaforo abbiamo tre opzioni diverse, il rosso, il giallo e il verde. In Swift possiamo creare un'enumerazione in questo modo, quindi scrivendo enum che sta per enumerazione, poi il nome delle enumerazioni che vuoi creare, in questo momento vado a creare un semaforo, e poi andiamo a scrivere i vari casi, quindi il semaforo può essere rosso, può essere anche giallo o arancione, mettiamo arancione, arancione e poi anche verde. Adesso come potete vedere siamo andati a creare un'enumerazione di semaforo. Adesso ragazzi come passo successivo andiamo a creare anche una variabile e la chiamiamo magari semaforo scelto e gli andiamo ad assegnare un semaforo punto e poi scegliamo un valore, scegliamo magari il rosso. Come potete vedere questo è un modo per assegnare ad una variabile uno dei casi della nostra enumerazione. In questo caso abbiamo scelto il valore rosso. Adesso possiamo fare tante cose, magari possiamo fare uno switch schiamandolo semaforo scelto e poi gli facciamo caso punto rosso, quindi se il semaforo scelto come variabile ha come caso rosso andremo a stampare il semaforo è rosso. E ora possiamo ripetere questi casi con gli altri valori. Quindi andiamo a mettere arancione, quindi qua sarà arancione e poi per l'ultimo valore andiamo a mettere un default, mettendo anche qua il semaforo sicuro sarà verde. Ok, quindi che cosa succede adesso? Quando noi andiamo a provare a far partire il programma vedremo che lui principalmente va a controllare che cos'è questa variabile, quindi semaforo scelto, se abbiamo messo l'attributo rosso o arancione o qualsiasi altro valore e poi con un semplice switch andiamo a controllare il suo valore e poi per stampare una determinata cosa. Le numerazioni quindi sono molto molto utili perché rendono il codice un po' più chiaro e sono come un modo un po' più ordinato di organizzare le opzioni o le diverse scelte per renderlo un po' più facile da usare e magari rendere il codice un po' più capibile, un po' più pulito. Ora passiamo ad un altro tipo di esempio, magari un po' più complicato e andiamo a scrivere enum, quindi andiamo a creare un'altra numerazione, magari con pasto, facciamo degli esempi con pasto e adesso come potete vedere vado a scrivere anche un protocollo che si chiama case iterable che è un protocollo che adesso andrò a spiegare. Andiamo innanzitutto a creare la nostra numerazione. Bene ragazzi, sono anche andato ad aggiungere dei vari casi, quindi ho messo come pasto, pollo, insalata, dessert, pesce, riso e patatine fritte. Questo codice quindi rappresenta un'enumerazione chiamata pasto, rappresenta insomma diverse opzioni di pasto come abbiamo detto precedentemente e come potete vedere c'è anche il protocollo case iterable. Che cosa significa? Che in questo caso il codice genererà automaticamente una sorta di raccolta con tutti i vari casi della nostra enumerazione e poi potremmo andare a fare un semplice for dove lui andrà a controllare i vari casi automaticamente senza farli manualmente noi. Se io adesso vado a creare insomma un'altra variabile, mettiamo pasto scelto con pasto, cosa vuol dire? Che questa variabile sarà di tipo pasto, ok? Della numerazione pasto. E li andiamo anche ad assegnare come attributo pollo. Questo è una maniera per inserire in una variabile molto molto simile come l'ho fatta precedentemente, però con la differenza che stavolta noi specifichiamo che questa variabile sarà di tipo pasto e con l'attributo pollo. E ora proviamo anche a vedere come fare a usare l'iterazione con il ciclo for, per insomma mostrare tutti i vari casi. Quindi basta fare un ciclo for, for i in pasto punto all cases, quindi questa funzione all cases viene generata grazie al case iterable che abbiamo scritto precedentemente. E dopo semplicemente andiamo a fare un print, pasto due punti e poi andiamo a mettere slash i. e poi se noi facciamo partire il programma vedremo che pasto conterrà insomma tutti gli elementi che abbiamo scritto dentro l'enumerazione e ce li andrà a stampare. Bene, ora andiamo a vedere un altro magari un po' più avanzato di quello precedente e andiamo a vedere un'enumerazione che può contenere insomma dei dati aggiuntivi, tra virgolette. Quindi vediamo, se andiamo a creare insomma un'enumerazione con nome viaggio, ok, poi andiamo a scrivere il primo caso che potrebbe essere New York e come dato aggiuntivo gli andremo anche ad inserire un parametro, quindi mettiamo un intero. E ora possiamo andare a creare altri casi simili, vediamo un po', quindi qua mettiamo magari Tokyo, possiamo anche andare a mettere Sydney, magari anche Berlino e via dicendo, anche Roma dai, siamo in Italia. Adesso vediamo anche di aggiungere un altro valore, quindi magari qua mettiamo anche come parametro un'altra stringa. Insomma potete scegliere voi quanti parametri mettere. Quindi che cosa siamo andati a fare? Siamo andati a creare un'enumerazione chiamata viaggio e tutti i casi all'interno di questa enumerazione contiene insomma dei dati aggiuntivi. Quindi New York avrà come dato aggiuntivo un intero, via dicendo, e poi Roma avrà sia un intero che una stringa. Dopo aver fatto ciò andiamo a provare a creare insomma una variabile, la chiamiamo viaggio scelto, poi gli andiamo a dire viaggio.roma, ok, poi gli andiamo anche ad assegnare insomma i valori che abbiamo scritto. In questo caso io ho usato intero come primo valore per, non so, un possibile dato per il nostro viaggio che potrebbe essere la durata. Quindi magari qua scriviamo una settimana, quindi sette giorni. E qua mettiamo magari, non lo so, il nome dell'hotel dove andremo a stare, quindi Hotel Paradise. Ok, ora dopo aver fatto ciò proviamo insomma a creare anche uno switch, come sempre abbiamo fatto precedentemente. Mettiamo viaggio scelto, ok, poi andiamo ad assegnare i vari casi. Quindi se il nostro caso è New York mettiamo una durata, poi andiamo a scrivere print con durata, due punti, e poi gli andiamo ad assegnare insomma il valore, quindi andiamo a fare durata in questo modo. Poi andiamo a ripetere questo caso anche con gli altri, facciamo in questo modo. Però quando arriverà anche a Roma, andremo a scrivere Roma in questo modo, ci mancherà anche inserire un'altra parte che sarà let hotel. E poi scriviamo qua virgola hotel, poi andiamo ad assegnargli anche il nostro hotel. Quindi dato che prima dentro viaggio scelto abbiamo scritto Roma, gli abbiamo segnato i vari parametri, se facciamo a partire il programma vedremo che comunque qua ci mostrerà durata 7, che sono 7 giorni, e poi l'hotel, l'hotel Paradise. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile, che vi sia piaciuto. Se voi abbiate domande chiedetemi pure, intanto noi ci sentiamo alla parte numero 2, perché comunque essendo un argomento molto molto ampio, andremo anche a mostrare qualcos'altro insieme delle numerazioni. Per questo video è tutto, noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao!